Giulia Bellettini, ex alunno del Liceo Classico della Spezia. Come mai dopo gli studi classici nasce l'idea di diventare produttore video? Inizialmente non era propriamente l'idea di diventare produttore video, l'idea era lavorare facendo video, perché mi regalarono una videocamerina in terza superiore, iniziai a fare delle riprese alle feste di compleanno anche un po' a scuola, mi dissero sei bravo, l'ho trasformato in un lavoro, sono felice di questo e sono felice che la scuola mi abbia dato l'occasione di venirlo a testimoniare. Il Liceo Classico dà una preparazione a 360 gradi, automaticamente viene da andare all'università ed è una scelta valida, ma anche le altre scelte possono essere intraprese, perché davvero la preparazione a 360 gradi basta metterci un po' di testa, crederci e magari quel pizzichino di fortuna che non guasta mai, ma sempre pronti ad affrontare qualunque sorpresa. Venendo al video relativo alla stazione nato di Comano, di Montagiogo, questa è archeologia industriale, quindi è un po' veramente una fusione di classico, di passato e forse anche di futuro. Da un certo punto di vista sì, assolutamente, perché è importantissimo fare memoria. Il futuro potenzialmente si può vedere nel fatto che a livello anche internazionale l'Europa stessa crede nel recupero di zone che sono state abbandonate. L'amministrazione di Comano ha già delle idee e dei progetti per un futuro utilizzo di questa struttura? L'amministrazione ha delle idee importanti come andare a valorizzare quell'area facendoci un grande rifugio mantenendo le famose parabole. Basenato che è all'interno dell'area del Parco Nazionale dell'Apennino Toscomiliano di interesse mondiale, il Parco Nazionale vorrebbe prenderlo in concessione e realizzare questo grande rifugio da dare anche la possibilità di essere visitato da tutti, da bambini, da famiglie e farlo conoscere al mondo.